Finalmente abbiamo l'onore di presentarlo alla città, come prima televisione, Giuseppe Delia, un giovanissimo coce della scuola basket Arezzo. Vengo da una realtà diversa, però ho visto una carica e una voglia particolare di tutta la società a partire dal presidente ed è stata questa un po' la spinta che mi ha portato fino a qui. Aggiungo anche la presenza di una figura importantissima a livello nazionale che è Umberto Pezzosi. Infatti è stato proprio Umberto Pezzosi che ha decantato le loti di Giuseppe Delia. Io dico che Umberto per Arezzo è un bellissimo bigliettino da visita. Arezzo, come hai detto prima, finalmente riesce a portare tutte e tre le squadre giovanili nei campionati di eccellenza. Arezzo è qui a gestire un palasport tra 1800 posti più una tendostruttura che sarà pronta a breve. Arezzo ha fatto una foresteria per i giovani, ha dei pulmini, ha una struttura secondo me che farebbe invidia anche ad alcune società di Serie A2 e questo ve lo dico per esperienza. La società intanto ha fatto un ottimo lavoro rimpiazzando subito due persone che hanno dato tanto a questa squadra l'anno scorso che sono Spillantini che è andato a Fabriano in Serie B e questa è anche una prova della qualità che si fa qui ad Arezzo da qualche anno aggiungendo Bianchi, un ragazzo che speriamo che faccia lo stesso percorso di Spillantini e magari anche qualcosina in più. E l'altro è Fratini che non ho avuto possibilità di conoscere però tutti me l'hanno parlato benissimo. Il Jaguaro, Fratini Gianandrea, 30 punti a partita e Aretino Docchi, Aretino con il sangue amarante. La società si è mossa da subito per rimpiazzarlo prendendo Ramirez che è un ragazzo del 96 dominicano che ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso a Carrara ma con importanti qualità fisiche e tecniche.